Torna in Viale Regina Margherita, dopo parecchi anni, la tradizionale fiera di San Michele, il santo patrono della città. Tra torroni, caramelle, scarpe e accessori per la casa, la fiera ha dedicato uno spazio anche all'enogastronomia e all'artigianato, promuovendo gli antichi sapori della città. Un vero e proprio ritorno al passato, insomma, una tradizione a cui si aggiungono i ricordi della gente, le passeggiate in centro e gli immancabili acquisti di tartarughine, pesciolini e batterie di pentole. C'è però chi non pensa che il Viale Regina Margherita sia il posto adatto per ospitare la fiera del santo patrono, poiché alcuni ritengono che sia un posto difficile da raggiungere, in quanto risulta difficoltoso per molti trovare un parcheggio in centro, in concomitanza, inoltre, ai lavori di ripavimentazione in Corso Vittorio Emanuele e quindi alla chiusura del traffico in centro. Tra la gente intervistata per l'occasione, queste le loro opinioni. Ma rispetto agli altri anni, diciamo che cose sostanziose come io potrei trovare, non ne trovo, ne trovo poco, diciamo. Prima era più bella la fiera, ora non è più bella. È un po' scomoda per il parcheggio, meglio dove era prima, molto meglio. E cosa ha comprato? Eh, per ora una tartaruga, ancora niente. Un po' ingasinata a livello di parcheggi, però abbastanza tranquilla. Preferivo dall'altra parte la fiera, però va bene così. Mi ricorda quando ero ragazzina che ci veniva con mia nonna e aspettavamo tutto l'anno che venisse la fiera di San Michele per poter fare gli acquisti. È comoda, ma un po' povera. Non è come gli altri anni, l'anno scorso era bellissima, cioè c'erano molti più prodotti, molto più merce, cose caratteristiche locali. Ancora di queste cose non abbiamo trovato niente, ora vediamo. Io è il primo anno che la faccio. Insomma, c'è tanta confusione e tanta bella gente. E quindi, insomma, una bella festa. Nel centro storico è sempre comodo. Io abito nel centro storico e mi fa piacere ancora di più. Comunque andava bene anche via Rochester perché nelle vicinanze, pianeggiante, si poteva passeggiare forse un pochino di più. Si ritorna all'antico, agli anni 50. Comunque l'hanno organizzata bene. Chi abita lontano, dici dobbiamo andare là, al piano del lago era più comodo, più spazioso, dove posteggiare. Ci sono i propri conti in tutte le cose. È molto scomoda, poco posteggio ed è disposta che sembra una gincana. Per me è così. È una cattiva organizzazione. Per noi nisseni magari il problema non sussiste tanto perché troviamo il posto dove andare a sistemare il mezzo, sempre tra parentesi, ma per i non residenti la cosa è molto brutta. Comunque qua c'è più gente che viene più gradevolmente a visitare le varie esposizioni di merci. E qui quindi il sindaco ha attirato la gente al centro storico, mentre lì era proprio lontanissimo. È una bella fiera, anche se è il primo giorno che so ancora, sono appena arrivato, quindi non so neanche come è messa. Però è una bella fiera. Ci saranno degli spazi anche migliori dove poterla fare, evitare di bloccare un po' il traffico circolare, però alla fine ci dobbiamo anche adeguare a tutto. Io sono d'accordo sulla... Purtroppo è caduto in un momento in cui la città è paralizzata dal fatto che la piazza è chiusa, però come scelta penso che sia migliore di quella di Diarocis. Grazie.